Giornata dedicata al cuore al Parco Mella di Gardone-Valtrompia. Nei giorni scorsi si è parlato di prevenzione contro le malattie in una serata organizzata da Valtrompia Cuore con i medici dell'ospedale di Gardone a trattare di screening e radioterapia oncologica. E nella platea follata di interessati c'erano anche staff e atleti del Valtrompia Calcio invitate ad assistere alla lezione sulla salute. Il primo a parlare è stato il direttore di cardiologia Nicola Pagnoni, corretto stile di vita, mangiare sano, tanta attività fisica e un bilancio sulle iniziative di prevenzione proposte nelle scuole medie della Valle. Più tecnica invece è la relazione di Maurizio Ronconi, direttore di chirurgia, che ha elencato gli interventi più diffusi nel panorama medico. Ultimo a salire in cattedra è il dottor Stefano Magrini, a capo dell'Istituto del Radio di Brescia e collaboratore di Valtrompia Cuore. La serata si è conclusa con l'associazione che ha donato un difibrillatore semiautomatico al presidente della squadra di calcio dilettante Giovanni Tomasini.